bentornati su my football jersey questa bellissima maglia che vedete è la seconda del real madrid per la stagione in corso in edizione player l'edizione fan abbiamo già vista e trovate qui in alto la recensione la maglia mi piace molto poi di uno dei miei calciatori preferiti camavinga se ben giovanissimo veramente fenomenale fatta molto bene qualità ottima il costo lo vedete qui sopra beh decidete voi se è un affare o meno qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate a vedere questa e altre bellissime maglie che vi attendono ora vi lascio la parte finale prima però mi raccomando iscrivetevi al canale a voi non costa nulla ma si permette di mostrarti maglie come queste tutti i giorni per oggi è tutto alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia large della versione player a voi non costa nulla ma